La nostra missione è conquistare e difendere l'obiettivo segnalato. Diamoci una mossa. Colpo in canna. Periscopio in posizione. This tank turns like a fucking wet turd. Ne ho visto uno. Questo è rimbalzato. Carico e pronto a fare fuoco. Ti abbiamo fatto male. Colpito. Ricaricato. Ce l'hanno trovato. No. 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 Carico è pronto! Questo gli è passato attraverso! Eccone uno! Il nemico ha la nostra posizione! L'abbiamo preso per bene! Carico è pronto! Con il migliorno! Continua colatornale! Accorga! 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 Grazie a tutti. Siamo stati avvistati. L'abbiamo preso. Ricaricato. È andato. Cerchiamo un altro bersaglio. Ci hanno preso di mira. Questo gli ha fatto malissimo. Il nemico ci ha nel mirino. L'obiettivo rilasciato. Colpo a segno. Obiettivo rilasciato. Caro nemico fuori gioco. Ci hanno visto. Corazzati nemici ne hanno provate. Eliminiamoli. Obiettivo sbloccato. Obiettivo sbloccato. Carico, fronti al fuoco. Li hanno credo di mira. Il nemico è nella nostra base. Veicolo avversario distrutto. Il nemico ci ha nel mirino. Cannone carico. Cannone carico. Hanno distrutto uno dei nostri carri. Colpito. Ci hanno preso di mira. Ci hanno trovato. Ello sp이라. C Utilizzato. Ello spiologico. Ello spiologico. Siamo stati avvistati. Siamo stati avvistati. Siamo stati avvistati. Siamo stati avvistati. Siamo stati avvistati.